Per parlare di chi sarà il nuovo sindaco di Roma abbiamo qui con noi Tobia Zevi che è l'unico candidato per il centrosinistra a Roma. Ecco, grazie di essere intervenuto. Buonasera, grazie a voi. Non so se sono proprio l'unico, ma insomma diciamo grazie di intanto avermi invitato. Non si sente un po' solo sulla sponda di centrosinistra? Si parlava di primarie, c'erano nomi, adesso prima c'era la Cirinna, adesso parla di Biase, vogliono candidarsi, però all'atto pratico ancora niente. Dunque, se io dovessi dire più che sentirmi solo per l'assenza di altri candidati, mi sento solo perché da molti mesi insisto su un punto che ritengo molto importante, cioè il fatto che di Roma non si parla. Delle elezioni amministrative imminenti si fa finta di non tener conto e questo evidentemente ha molto a che fare con una capitale che è poco amata, secondo me, dalle classi dirigenti nazionali, ma in qualche modo anche poco amata dalle classi dirigenti locali. Io ritengo che le primarie si faranno, ritengo che le primarie siano uno strumento utile per consentire alle persone di scegliere il programma, la squadra di governo e ovviamente il candidato o la candidata. Sono molto felice che ci siano altre persone in campo e non vedo l'ora in qualche modo di sfidarle. E' molto importante, secondo me, per la ragione che ho detto, che queste primarie non siano soltanto una fiera delle vanità e quindi la candidatura di tante personalità come la mia e come quelle degli altri, di che giustamente vogliono giocarsi una partita importante, ma siano anche una grande occasione di dialogo con la città, di elaborazione del futuro per Roma e quindi in qualche modo anche, diciamo, di progettazione di un futuro migliore di quello che stiamo vivendo in questi giorni, in questi mesi, in questi anni. Settimana scorsa abbiamo intervistato il coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ha la domanda sulle primarie, ha risposto, dicendo che le primarie sono ormai uno strumento desueto, obsoleto. Inoltre, sempre secondo Gasparri, il candidato sindaco di Roma deve essere una persona, che cito testualmente, che faccia dire alle persone, ah, e non chi, questa è la citazione testuale della senatore Gasparri. Ecco, quindi le due domande. La prima, le primarie sono, secondo lei, uno strumento obsoleto. E la seconda, la sua candidatura al cittadino romano farà dire, ah, oppure chi? Dunque, innanzitutto mi lasci dire che, diciamo, tra tutti i vari metraponset che potevamo scegliere, scegliere Maurizio Gasparri, insomma, è una scelta, come posso dire, abbastanza coraggiosa e originale, insomma, tra tutti i due. Beh, il coordinatore romano di Forza Italia, lui che è la persona più titolata. No, certo, ma dico appunto, ognuno ha i problemi che ha, lasciamo a Forza Italia, al centrodestra, il dialogo con Maurizio Gasparri e noi ci occupiamo magari di qualche altro interluttore. In ogni caso, io ho sempre detto sulle primarie una cosa molto semplice. Le primarie sono uno strumento, quindi come tali non devono essere limitizzate né fondamentalmente disprezzate. Sono uno strumento che serve a coinvolgere le persone. Se la domanda è, ma per forza bisogna fare le primarie, la mia risposta in assoluto è no, dipende dalle circostanze. Ma le circostanze significa che se tu non vuoi fare le primarie, due anni fa, o un anno e mezzo fa, avresti dovuto mettere intorno a un tavolo la coalizione di centrosinistra, farlo seriamente, scegliere una personalità riconosciuta che voleva fare il sindaco, e a quel punto attorno a quella personalità, dico sempre parlo al maschile, ma naturalmente vale per le donne come per gli uomini, attorno a quella personalità costruire una squadra larga e forte e poi un progetto di governo della città. Se avessimo fatto così un anno e mezzo fa, allora io sarei d'accordo e direi, va bene, ok, questo non è un meccanismo diciamo di democrazia dal basso, tra virgolette, è un processo organizzativo, se volete, più dall'alto verso il basso, ma va bene lo stesso. Cioè nel senso sarebbe stato un meccanismo efficiente per arrivare dove tutti vogliamo arrivare, e cioè ad una squadra larga di persone con un capitano forte che guida la riscossa di Roma dopo questi anni di amministrazione drammatica. Tutto questo però non è accaduto, e quindi quello che io dico oggi è che le primarie sono necessarie, e io le chiedo da luglio, non perché siano un totem, cioè non perché siano di per sé una soluzione, ma perché oggi sono lo strumento migliore che abbiamo per evitare quella che secondo me è l'eventualità peggiore, e cioè che il candidato o la candidata sindaco siano scelti da tre dirigenti politici chiusi in una stanza. Secondo me questa eventualità è quella che noi dobbiamo evitare, perché abbiamo già visto, abbiamo già sperimentato, che questo genere di processi non funzionano in una città complessa come Roma. La seconda domanda, io sono un outsider, è evidente, ne vado fiero, sono libero, sono fuori dalle correnti politiche, sono fuori dai partiti, e quindi come tale, diciamo evidentemente, sono meno noto di altri candidati illustri. Questo è evidente, anche se i dati che io ho in mio possesso, e che in qualche modo sono anche girati, indicano livelli di notorietà per certi aspetti sorprendenti, nel senso che sono superiori a quelli che uno può immaginare, e del resto io appunto sono molto presente nei video, nella comunicazione e così via. Assolutamente. Però il punto è un altro secondo me, e cioè, per carità, se ci fosse, o se ci fossero, perché questo è un problema che c'è a sinistra, ma c'è anche a destra, se ci fossero candidati big, cosiddetti, che hanno voglia di sporcarsi le scarpe, rimborcarsi le maniche, girare per Roma, incontrare i romani, e soprattutto farsi un mazzo così per cinque anni, io sarei il primo a dire, l'ho detto cento volte, che questa sarebbe una bella notizia per la città. Il problema però è che qui abbiamo un'altra situazione, e questo, ripeto, purtroppo è trasversale alla destra e alla sinistra, una situazione nella quale nessuno vuole prendersi la responsabilità di governare la capitale d'Italia, la capitale di un paese del G7. È passato il messaggio, io lo ripeto con questo slogan ormai da sei mesi, che fare il sindaco di Roma sia più una rogna che non un onore. E questo è un messaggio vergognoso per i cittadini di questa città, e aggiungo io, è un messaggio sbagliato anche per il resto degli italiani, perché guardate che nel mondo non c'è nessuna città, nessun paese che cresce a discapito della propria capitale. Se l'Italia pensa di poter, come dire, ripartire dopo la pandemia, ignorando il problema di Roma e della sua area metropolitana, semplicemente si culla in un'illusione. E quindi io dico, se c'è, per citare il noto filosofo e intellettuale Maurizio Gasparri, se c'è un candidato sindaco che, come posso dire, dimostra non solo col curriculum e col blasone, ma con l'amore per Roma di volersi fare, di voler fare questa battaglia per cinque anni, io dico benissimo, benvenuto o benvenuta, facciamo le primarie e interroghiamo i cittadini su chi sia più forse. Se questo non c'è, però, mi lasci dire, meglio chi che ha di uno che è A, ma poi alla fine non c'ha voglia di fare il sindaco. Ecco, appunto, questa è forse una grande chiave di lettura. Al momento, Roma è più una rogna o un onore? Io, ovviamente, dedicandole da parecchi anni, gran parte della mia giornata e negli ultimi mesi, praticamente, non solo la mia giornata, ma anche le mie notti, ovviamente, diciamo, considero questo un onore e un sogno e per me anche, diciamo, una missione un po' nella vita che mi sono dato, perché ho scelto di vivere, rimanere a vivere in questa città, perché voglio cambiarla in meglio e voglio cambiare in meglio la vita delle mie concittadine e dei miei concittadini. Quindi, come dire, la domanda, per quanto riguarda me, ovviamente, diciamo, è superflua. Per quanto riguarda, invece, la città nel suo complesso e mi verrebbe da dire anche la città nel rapporto con il resto del paese, la sua domanda, secondo me, è molto giusta e però richiederebbe anche, diciamo, una risposta complessa. Per dirle in estrema sintesi, io credo che Roma sia una città poco amata, poco amata, in qualche modo, dagli italiani, e fino alla sua istituzione come capitale non l'hanno mai del tutto riconosciuta. Oggi, quest'anno, come vedete, ricordo il centocinquantesimo anniversario, quindi significativamente un dibattito che sarebbe stato utile è stato completamente ignorato, ma se uno va a studiare il dibattito parlamentare di 150 anni fa scoprirebbe delle interessanti prese di posizione su questo da parte dei dirigenti politici nazionali dell'Italia risorgimentale. Ma al di là di questo, Roma è anche forse una città ormai poco amata da tanti romani, perché la vita è faticosa, perché gli autobus non passano, perché la città è sporca, perché ci sono le buche, perché davvero ogni volta che noi incontriamo la pubblica amministrazione proviamo un senso proprio di affaticamento. E questo, alla fine, crea un distacco. A me è capitato tanto... Io giro moltissimo la città, in tutti i quartieri del centro, più lontani dal centro. Una cosa che mi colpisce sempre è che, secondo me, molto spesso noi troviamo più orgoglio per il quartiere che per la città. Cioè, se noi chiediamo agli abitanti ma che ne pensi di Roma? Ti dicono, ma Roma è un casino, non si può vivere, così di qua di là. Poi tu dici, sì, ma qui a Monteverde come vanno le cose? Beh, Monteverde comunque è sempre fantastico. E tu dici, vabbè, però Monteverde è Roma. E non so, però Monteverde io lo riconosco, no? Come luogo in qualche modo della mia vita. Adesso ho fatto un esempio tra i tanti, perché so che Monteverde... Certo, questo comunque è anche uno dei grandi, diciamo, dei grandi classici, delle grandi città. Uno potrebbe fare lo stesso discorso a Milano, nei vari quartieri, tra... Non sono tanto d'accordo su questo. Io credo che ci sia una maggiore identità e anche una maggiore appartenenza ad alcune grandi città. Penso, adesso Milano in realtà è molto più piccola di Roma, quindi forse come esempio è diverso. Ma se penso a città grandi, per esempio Parigi o Londra, secondo me c'è una grande identità della capitale, no? Anche perché appunto sono in qualche modo città che hanno avuto nel rapporto appunto tra la capitale e il paese una costanza, no? Cioè Parigi è capitale da secoli, Londra è capitale da secoli, Roma era una città molto piccola alla fine dell'Ottocento, diventata capitale per scelta politica e poi come dire che ha fatto un percorso di crescita molto tormentato e anche molto irregolare, diciamo così. Allora tutto questo per dire che oggi effettivamente noi dobbiamo secondo me confrontarci con una situazione culturale, prima ancora che politica, che un po' ha le sembianze di quello che dicevo prima, e cioè nessuno Roma la vuole, nessuno si vuole prendere la rogna, nessuno vuole prendersi la responsabilità e quindi sostanzialmente Roma va sempre peggio. Io ovviamente combatto contro questo e non solo combatto ovviamente con la mia candidatura, ma combatto provando a spiegare appunto nei dibattiti, nelle riunioni, nei comizi, negli incontri, nelle conferenze, provando a spiegare che se noi non affrontiamo l'emergenza di Roma capitale, non soltanto evidentemente influiamo negativamente sulla vita dei cittadini e delle cittadine romane, ma anche, secondo me, alla lunga facciamo un danno all'intera Italia, che negli ultimi anni, non ce lo ricordiamo, è cresciuta meno economicamente, proprio perché è cresciuta meno economicamente l'area metropolitana di Roma. Parliamo di programmi, primi 100 giorni. Ma noi abbiamo, come dicevo prima, fondamentalmente tre emergenze drammatiche che vanno affrontate immediatamente e che sono la pulizia delle strade, un trasporto pubblico che non funziona e la questione delle buche, che sono fondamentalmente tre emergenze quotidiane che affliggono la vita dei romani. E su questo, evidentemente, nei primi 100 giorni bisogna dare dei segnali molto forti. Quelli che io ho, come dire, presentato e che ho spiegato e che poi spiegherò sempre meglio sono, da un lato, il conferimento di Ama in Acea, per quanto riguarda la parte industriale, diciamo così, del ciclo dei rifiuti, la liberalizzazione del trasporto pubblico locale e una, in qualche modo, riforma degli uffici che consenta di dare incentivi a chi lavora di più, che consenta di beccare chi lavora di meno e dall'altra parte, evidentemente, snellire i processi. È evidente che noi nei primi 100 giorni potremo iniziare questi miglioramenti perché sono cambiamenti che hanno bisogno di più tempo. Dopodiché, invece, secondo me, la grande sfida dopo i 100 giorni, ma diciamo che parte dal giorno 1 e che poi dura 5 anni, è evidentemente quella di rilanciare economicamente la città, renderla una città abitabile per i giovani che oggi se ne vanno o che rimangono senza lavoro e che, possibilmente, nel rilanciare la sua economia, riduca le enormi diseguaglianze sociali che in questi anni si sono approfondite e che il Covid, purtroppo, ha reso ancora più drammatiche. Io dico sempre come ritratto di questa città che, secondo me, dobbiamo tenere presente Roma oggi è una città nella quale al centro noi abbiamo persone anziane e benestanti e nei quartieri più lontani del centro abbiamo giovani e poveri, o meglio, giovani e poveri. Una città che non affronta in maniera spinta, in maniera urgente questa situazione evidentemente negativa è una città che rinuncia a immaginare il proprio futuro perché è evidente se noi penalizziamo i più giovani, le giovani coppie, le famiglie, le giovani generazioni, noi stiamo, di fatto, condannando la città a vivere un lento declino. Com'è il suo dialogo con il Partito Democratico di Roma e del Lazio? Nel senso visto lo stallo che sta vivendo il centro-sinistra a Roma sia nella scelta del sindaco sia anche un po' a livello politico locale potrebbe essere la sua una figura veramente emergente sulla quale puntare oppure il Partito Democratico oppure si sente un po' escluso dei discorsi del Partito Democratico? No, io ho un'interlocuzione aperta col Partito Democratico di Roma e del Lazio nazionale anche perché in questo caso un po' coincidono perché sono persone con cui ho lavorato che conosco con cui diciamo ho una consuetudine e sostanzialmente devo dire anzi di questo li ringrazio che la mia candidatura non è stata assolutamente accolta con ostilità anzi diciamo mi è stato riconosciuto devo dire da tutti e questo è un fatto che in parte mi rende orgoglioso ma in parte come posso dire è anche un merito secondo me che va dato loro viene riconosciuto a me e non soltanto a me anche agli altri appunto che si sono candidati alle primarie di aver comunque contribuito di contribuire comunque ad un dibattito sulla città che altrimenti sarebbe del tutto sterile morto silente e quindi da questo punto di vista come posso dire l'interlocuzione è aperta dopodiché io faccio una critica politica al partito democratico che è un partito peraltro dove io ho militato per molti anni io ho avuto la testa per tanti anni addirittura sono stato tra i suoi fondatori la critica che io faccio è non aver costruito in questi anni secondo me sufficientemente un'alternativa credibile popolare civica ha da un lato un'amministrazione quella guidata da Virginia Raggi che secondo me è stata pessima e dall'altra ad una destra che evidentemente oggi si riaffaccia minacciosa in vista delle elezioni e che però noi romani abbiamo conosciuto negli anni tra 2008 e 2013 come una destra fatta di scandali malcostumi errori e vero e proprio diciamo come possiamo dire e vero e proprio malaffare allora a proposito di questo scusi se la interrompo a proposito di questo diciamo che di recente sono arrivate le ultime condanne per la vicenda impropriamente detta di mafia capitale ma il mondo di mezzo chiamiamo l'inchiesta mondo di mezzo perché se no rischio un'altra querella come quella che mi ha già minacciato il senatore Casparri l'ultima volta ah si mentre lo intervistava l'ha minacciato una querella? si si è stato molto divertente ma segamento o scherzava? no scherzava naturalmente però sarebbe stato un'intervista un po' intensatoria come come no sarebbe stato meraviglioso e no tornando un attimo a questo discorso il quindi essendo comunque fresca ancora la coda della dello scandalo del mondo di mezzo che ha colpito anche delle parti importanti del partito democratico penso comunque all'arresto di Odevine per dirne uno può essere quello un fattore per che può condizionare il voto? Sicuramente una buona parte del voto che nel 2016 premiò Virginia Raggi era costituita da una parte di elettorato che era molto arrabbiata oltre che molto delusa sia dalla destra sia dalla sinistra nel caso della sinistra c'era stata anche ricordiamolo la vicenda assolutamente negativa e per certi aspetti ingiustificabile della cacciata di Ignazio Marino quindi un sindaco che aveva stravinto le elezioni governava 15 municipi su 15 e quindi diciamo da questo punto di vista diciamo sicuramente mafia capitale come dice lei impropriamente detta ma insomma l'inchiesta sul mondo di mezzo e poi in generale come posso dire tutta quella sensazione di malcostume che imperversava negli uffici comunali certamente ha penalizzato allora sia la destra sia la sinistra sebbene ricordiamolo le responsabilità siano ben diverse quella è un'inchiesta e quella è diciamo come posso dire una vicenda diciamo in qualche modo di corruzione tutta nata diciamo all'interno della destra e questo va ribadito diciamo che comunque le condanne sono state un po' bipartisan beh però diciamo con una bella sproporzione però verso come dire verso la destra diciamo così da un punto di vista sia di sia di numero di condannati sia di numero di anni ma insomma questo diciamo comunque non voglio eludere la domanda nel senso che secondo me da un punto di vista storico è giusto attribuire le responsabilità sia la destra sia la sinistra dopodiché non è accaduto durante l'amministrazione della sinistra è accaduto nei cinque anni in cui governava la destra questo secondo me è importante pur nella ovviamente collusione di alcune persone che erano parte del partito democratico detto tutto questo io ritengo che oggi quella stagione non solo vada ovviamente condannata e archiviata ma sia stata anche in qualche modo superata nel tempo da cinque anni di amministrazione grillina diciamo così e dalla ovviamente vicenda della pandemia che sono insomma due trasformazioni secondo me anche della politica locale oltre che di tutto il mondo e dell'Italia molto significative quindi io credo che certo ci sarà una quota parte di elettorato che ancora oggi accusa il centro-sinistra ovviamente io parlo del centro-sinistra lo sarà pure a destra di avere come posso dire di essere stato responsabile di comportamenti negativi o addirittura illegali in passato però tutto questo secondo me diciamo tenderà a scemare nell'importanza e come possiamo dire nella considerazione dei romani che invece secondo me sempre di più sono preoccupati dalle condizioni di vita insopportabili che in città molto spesso si trovano a affrontare a affrontare Grazie a tutti.